Io sono Claudio Bonfandi, sono il capo cucina di questo bistro. Volevo parlarvi del nostro cameriere robot. Devo dire che il futuro della nostra gastronomia è un aiuto sia per i cuochi in cucina e un grandissimo aiuto per i camerieri fuori. L'aiuto principale è che questo robot porta più piatti rispetto a un cameriere. Significa che noi posizioniamo tutti i piatti all'incirca dai 8-10 piatti e cliccando dei tasti il robot esce in sala portando questi piatti all'aiuto del cameriere. È un grandissimo aiuto per il pass. Il pass è il punto di partenza dei piatti in cucina dove il cuoco ha la possibilità di smaltire più velocemente i suoi piatti liberando il pass. Il terzo aiuto è anche che i camerieri hanno la possibilità di posizionare tutti i piatti sporchi del rimpiazzo e indirizzarlo verso la plonge, il punto del lavaggio dei piatti. Noi facciamo più o meno 500-600 pass al giorno. Adesso ne abbiamo due e devo dire che ci ha dato tanto tanto aiuto e ci ha facilitato anche il nostro lavoro. Ciao!